Noi siamo lasciati unita contazione, non possiamo permettere che il piano c'è l'esplino, ma in solito è trascoltato. Noi siamo gli studenti e le studentesse dell'Università di Torino e ci chiediamo perché per andare a inaugurazione del nostro anno accademico. Ci dobbiamo trovare per chi le rispire davanti, ci dobbiamo trovare su tanti costorinese schierata. Allora perché il Rettore dovrà rendere conto anche di questo, lo stesso Rettore che ha tifeso i fascisti in università due settimane fa, lo stesso Rettore che ha speso 6 milioni di euro dichiarati perché 6 milioni sono del progetto che doveva finire nel 2013. Ricordiamo che se sta la magna è rilavorata oggi e che quindi proprio a due tempi i soldi spesi sono ancora di più. Allora quei soldi sono nostri, non sono di agli anni, quei soldi sono le nostre tasse, quei soldi sono i soldi che le vostre famiglie mettono con sacrificio magari o che noi ci guadagniamo facendo lavori del cazzo e di certo non li vogliamo spesi in un'aula magna in cui non metteremo mai piede. Questa inaugurazione sei milioni per una lavagna al Palazzo Nuovo invece ci si bagna.